buongiorno oggi vorrei farvi vedere un altro modo per fare i ferri accorciati ovvero sia con il metodo chiamato in inglese german short rows oppure ferri accorciati alla tedesca in italiano andiamo a vedere come si fanno arriviamo al punto in cui io devo girare il lavoro quindi lavoro l'ultimo punto e giro il lavoro questo punto io sposto questa maglia sul ferro di destra senza lavorarla e tiro bene il filo vedete che si forma una specie di doppio punto risposto il filo sul davanti e lavoro il ferro vedete c'è in pratica un doppio punto una doppia maglia quindi sarà impossibile sbagliare la posizione per esempio questo è un tipo di ferro accorciato che a me piace molto non l'ho scoperto da tanto e credo che lo inserirò anche nelle mie lavorazioni perché il risultato è veramente molto bello come sempre andiamo avanti fino a terminare questo ferro accorciato e quindi vedere anche la parte del ferro accorciato rovescio quindi mettiamo di essere arrivati qui questo punto quindi terminiamo di lavorare il ferro accorciato e giriamo il ferro quindi spostiamo il filo sul davanti inseriamo così non si vede ecco lo faccio vedere da questa parte inserisco la punta ecco facciamo così lo sposto e contemporaneamente tiro formando di nuovo un doppio punto e continuo a lavorare tutto il ferro cercando questo punto di concluderlo quindi vediamo come si conclude in realtà questo metodo è davvero il mio preferito perché è molto semplice da lavorare anche la conclusione perché non richiede punti particolari ma si lavora semplicemente tutto il ferro tutto il ferro tutto a diritto fino alla fine vedete siamo arrivati a questo punto non devo fare altro che lavorare questo punto a diritto semplicissimo stupendo eccolo qui già così possiamo vedere come risulta bene facciamo la conclusione facciamo la conclusione da quest'altra parte quindi vediamo anche da questa parte come si conclude il ferro accorciato dalla parte rovescia vedete la lavorazione come ho detto è estremamente semplice quindi molto facile da fare anche per i principianti siamo quasi arrivati e anche in questo caso eccoci e anche in questo caso eccoci l'ultimo punto in questo caso io lavorerò semplicemente una maglia rovescia ecco ecco non occorre terminare il ferro ve lo faccio vedere dal diritto come vedete è un effetto veramente perfetto sia da una parte che dall'altra non si vede assolutamente nulla bene il mio preferito alla prossima sta tornando io